Oggi recensisco, per così dire, una barca che a mio parere può andare incontro a tutti coloro che cercano in un unico mezzo la soluzione per diporto e pesca sportiva con costi non esagerati di gestione, di acquisto e di manutenzione della barca. Perché stiamo parlando di un center console in piena regola e adesso scopriremo il perché è in piena regola un center console completo. di appena 18 piedi, quindi una barca di 5 metri e mezzo, che ha diversi assi nella manica. Primo fra tutti il baglio, la larghezza che si attesta a 2,44 metri, insolito per la categoria, è una larghezza che conferisce molta stabilità che è unita a una daydry spoppiera di 19 gradi, in assoluto non delle più profonde, ma comunque considerevole per essere una carena V variabile, conferisce adeguata penetrazione nell'onda, così come una stabilità col mare al traverso del tutto prevedibile. Ovviamente una carena così performante e presente sotto il pilo dell'acqua necessita anche di una certa potenza. Non spaventi la potenza massima installabile di 150 cavalli perché questo non significa che la barca abbia necessariamente bisogno di tutta questa cavalleria per muoversi agevolmente. Infatti il cantiere la vende come motorizzazione standard con un 90 cavalli 4 tempi. Ovviamente col 150 cavalli è ben più performante, infatti a 4.000 giri, secondo i dati di bottest.com che l'ha testata a fondo, c'è una bella prova molto esaustiva, a 4.000 giri fa dai 23-24 nodi di velocità. Considerando che il massimo regime di rotazione dello Yamaha da 150 cavalli 4 tempi e 6.000 giri capite bene che c'è un'adeguata riserva di potenza, oltre questo regime di crociera economica per così dire alla cui velocità questa barca consuma circa 24 litri ora. Inoltre stiamo parlando di una barca di 18 piedi che però ha addirittura un vano toilette nella console. Ho specificato nell'articolo che ho pubblicato ieri su FishermanAmericanity.com il sito webblog dedicato alle barche per la pesca sportiva che gestisco che è uno spazio alquanto angusto perché viene diviso tra la parte elettrica ed elettronica che è praticamente la parte interna posteriore della plancia e un vano più specificamente dedicato all'alloggio del WC o comunque allo stivaggio di attrezzature, di dotazione e quant'altro. Quindi non si può pretendere in un 18 piedi un'altezza interna comoda o comunque dei calpesti sufficienti. Basti comunque pensare che a bordo di una barca di poco più di 5 metri abbiamo a disposizione un vano che all'occorrenza ci può servire per cambiarci o per necessità fisiologiche. In più questa barca, proprio per lo stile che conserva di tipo rocket così come vengono chiamati tutti gli scafi che hanno un cavallino pressoché neutro da poppa a prua ha un bordo libero a poppa considerevole che comunque consente al pescatore di toccare l'acqua con la punta delle dita essendo all'interno del pozzetto e consente comunque di conservare anche a prua un bordo libero che è unito a un accenno di flare tipico delle carene del North Carolina e che è diventato proprio del fisherman dell'antonomasia del design del fisherman consente anche di deflettere gli schizzi d'acqua in condizioni di vento teso o comunque di mare non esattamente calmo. Quindi Wellcraft con il 182 ha voluto un attimo ripolpare quel settore di imbarcazioni che era stato un po' trascurato ultimamente che il mercato premiava e continua a premiare mega center console con rastrelliere interminabili di fuori bordo a poppa. Ecco siccome mi sembra che è giusto andare incontro alla necessità di chi cerca un mezzo più umano non fosse altro per le possibilità economiche ma per il semplice obiettivo di dedicare un budget limitato, consono al soddisfacimento del capriccio barca almeno per chi si avvicina per la prima volta al mondo nautico. In questa barca può trovare tutto ciò che serve per praticare adeguatamente pressoché qualsiasi disciplina di pesca sportiva perché è addirittura la vasca del vivo ma anche accontentare la famiglia perché a prua è stato ricavato un vano che loro chiamano postazione per il lancio quindi casting platform che è stata al suo interno gavonata interamente uno di questi gavoni è appunto una vasca del vivo molto capiente che ha addirittura una finestratura in vetro temperato trasparente che consente di vedere lo stato delle esche e dell'acqua all'interno della vasca senza doverla aprire con illuminazione interna per giunta quindi sebbene in questo caso non abbiamo la collocazione ottimale per un fisherman per la vasca del vivo che dovrebbe essere a poppa all'angolo di uno dei due giardinetti però siccome stiamo pur parlando di una barca di dimensioni davvero limitate stiamo parlando di una barca di 5 metri e mezzo è anche giusto che il cantiere si sia un po' scervellato a individuare una posizione che possa essere di non eccessivo impaccio per le attività, per le operazioni di pesca perché comunque conserva un calpestio ragguardevole per le dimensioni della barca e allo stesso tempo non vada a deturpare la linearità delle sagome degli spazi che sono stati creati a bordo e che magari avrebbero rubato spazio alla praticabilità del pozzetto quindi il Wildcraft 182 Fisherman è una barca che conserva tutti i dettami del fisherman nel suo piccolo ha anche un t-top ben strutturato portacanne alloggiati con intelligenza ma anche delle rifiniture degne di pregio infatti sulle foto disponibili sia su bot test sia su quelle del sito web del cantiere costruttore si possono notare le rifiniture molto accurate anche dell'interno dei portelli dei gavoni che sono gelcottati e lucidati anche internamente il bottazzo è di alta qualità con inserto metallico i passaggi allo scafo sono in acciaio inox e non in nylon come è uso trovarli a bordo di barca di questo cabotaggio secondo me è una barca che in Italia avrebbe un suo perché mi auguro che abbia il successo che merita alla prossima